Non solo anatre lungo le rive del canale Albani ma anche topi che mettono in apprensione le mamme specialmente in queste prime giornate di bella stagione quando portano i loro figli al fresco sotto gli alberi dei passeggi di Fano. Non è un bello spettacolo vedere in questa osi di verde in città che seppure sottoposta periodicamente ad erattizzazione e controlli ha bisogno sempre più di attenzioni e cure da parte soprattutto delle persone che la frequentano. In queste settimane è stata fatta la pulizia oltre allo sfalcio non solo dei giardini ma anche delle sponde del canale Albani, è stata fatta l'opera in entrambi i casi di disinfestazione contro le zanzare quindi intervenendo direttamente sui microfocolai presenti nell'aria con elementi di lotta biologica quindi ecocompatibili di carattere larvicida come intervento e in più abbiamo fatto gli interventi di deratizzazione sia sulle sponde del canale Albani sia nei viali Mazzini e abbiamo programmato da qui a settembre 10 interventi per cui ogni due settimane noi interverremo nell'area dei passeggi. Serve una bonifica dunque ma anche un po' di buonsenso civico e collaborazione. Raddoppiate le trappole dopo le segnalazioni e gli interventi degli scorsi mesi anche se tutti gli sforzi sono poi vani se si continua a dare scarti di cibo alle oche nel fiume trasformando il canale in una pattumiera. Qui il problema non è qualche mollica lasciata nel canale, il problema è che qui vengono lasciati sostanzialmente chili di cibo ogni giorno sia nell'area dei viali Mazzini sia gettati sulle sponde del canale. E' chiaro che questo attira gli animali e rende molto più debole il risultato che gli interventi di deratizzazione possono produrre anche se ripetuti ciclicamente con una frequenza che peraltro stiamo aumentando. per questo Grazie a tutti.